Siterra sabato 15 giugno presso l'antica biblioteca monumentale dell'ospedale dell'Annunziata, la quinta edizione del premio Per sempre Scugnizzo in Rosa. L'evento è organizzato dall'associazione La Voce degli Ultimi con il sito persemprenapoli.it e vuole premiare le donne che hanno superato, con sagacia e vivacità, momenti difficili della vita e che hanno contribuito con la loro attività alla crescita economica, sociale e civile del Paese. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella Sala Giunta del Comune alla presenza dell'assessore al welfare Roberta Gaeta. Il merito che hanno è quello di aver fatto qualcosa per la nostra terra, qualcosa senza particolare interesse specifico. Abbiamo per esempio alcune donne che hanno fatto qualcosa nel tentativo di far crescere i ragazzi, come nel caso della dottoressa Carfora dell'Istituto Morano di Caivano, che è una dirigente scolastica che si è impegnata a far crescere i ragazzi della zona di Caivano. Il valore aggiunto è costituito proprio dalla forza delle persone, in questo caso delle donne, di voler partecipare ad un cambiamento, di voler condividere la propria esperienza personale e professionale con gli altri, a favore degli altri e quindi questo premio mi sembra particolarmente importante. E poi è un premio per le donne e le donne a volte hanno questa capacità di rielaborare, quindi di partire anche da esperienze negative per poi trasformarle in esperienze positive da condividere con gli altri.